Segui La Sette anche su Instagram, La Sette ovunque con te. Non sappiamo chi è Piola Torre. Perché dovremmo saperlo? Piola Torre era un dirigente del Partito Comunista che fece della lotta contro la mafia il cuore della sua vita. Ora tocca a noi la frase che lui disse a Emanuele Macaluso pochi giorni prima di essere ucciso. Aveva capito che la mafia lo stava per colpire perché lui stava lavorando al più efficace provvedimento antimafia, che era quello della confisca dei beni, che era quello che faceva impazzire i boss mafiosi. E gliel'hanno fatta pagare. Era una persona straordinaria con una carica umana e una motivazione politica e civile enorme. La mafia non c'è più? Come non c'è più? La mafia, la camorra, l'andrangheta sono ancora... Però appunto, insomma, non si è scomparsa dal dibattito pubblico. Non abbiamo sentito nominare nei discorsi del Presidente delle Camere, nessuno ha fatto nessun riferimento, eppure... I Cinque Stelle hanno eletto un paio di rappresentanti significativi della lotta contro la mafia, però in generale, in generale, questo tema, la centralità di questo tema, dal quale dipende il destino di una parte consistente del Paese, ma non più solo il mezzogiorno, perché la camorra, la mafia e l'andrangheta sono nella finanza, sono nella vita pubblica di questo Paese e ovunque, questo tema è abbastanza sparito. È strano che non se ne parli proprio per niente, no? Per esempio in questo inizio di... Di...